Ben trovati, siamo con Monsignor Giuliano Brugnotto, nominato Vescovo di Vicenza l'11 dicembre, una data importantissima, diventerà Vescovo e prenderà dimora e possesso della Diocesi Vicentina. Si aspettava di diventare Vescovo? No, assolutamente, era nei miei progetti, mi sembrava che gli incarichi che avevo ricevuto prima da Rettore e poi da Vicario Generale fossero il massimo delle mie possibilità e quindi già mi sembrava di essere inadeguato in quegli ambiti e quindi non mi sarei aspettato di diventare Vescovo. Con che spirito affronta questa nuova chiamata? Affronto con lo spirito missionario, se posso utilizzare un termine che avverto come una dimensione importante e fondamentale per la nostra vita ecclesiale, nel senso di lasciare tutto per partire in una nuova realtà. È vero che è abbastanza vicina alla Dioce di Treviso, la Dioce di Vicenza, però è chiaramente una situazione, una condizione completamente nuova. ho un nuovo presbiterio nel quale sarò inserito e quindi una famiglia nuova rispetto a quella che adesso lascio qui di Treviso e quindi legami, relazioni nuove, storia di una chiesa diversa, differente, probabilmente ci sono anche delle somiglianze ma credo che fondamentalmente è una realtà alla quale io dovrò consegnare la mia vita su invito del Signore, che è un invito mediato dalle autorità ecclesiali, dal Papa e i suoi collaboratori, ma l'invito a partire mettendo a disposizione quello che ho ma sapendo anche che nessun Vescovo può esercitare il suo servizio da solo. Come Vescovo quali saranno le priorità, le attenzioni che vuole esercitare? Questa è una domanda un po' impegnativa, non ho in mente cose particolari, mi sembra che sia importante avere l'atteggiamento dell'ascolto insieme a quello dell'accoglienza. Essendo una realtà nuova dovrò imparare tante dimensioni, imparare i nomi delle persone, imparare i luoghi, le storie che hanno caratterizzato la vita della diocesi, delle parrocchie, delle associazioni, dei religiosi, delle religiose e quindi non ho un programma mio, anzi credo che possa essere più efficace, come dire, raccogliere il testimone da Don Beniamino e poi condurlo in avanti. C'è già un bel cammino alle spalle da come ho raccolto alcune informazioni e quindi si tratterà di fare un passo ulteriore nella direzione che già questa chiesa sta compiendo. Quindi la dimensione dell'ascolto è una dimensione fondamentale. Certamente, l'ascolto che è anche quello che caratterizza questo tempo della chiesa universale e anche delle chiese che sono in Italia nel cammino sinodale credo sia decisamente fondamentale. Mettersi in ascolto sia delle realtà ecclesiali, ma direi soprattutto delle attese degli uomini di questo nostro tempo con le diverse condizioni di vita in cui si trovano. Lei è originario di un paese trevigiano che si chiama Mignagola. Che ruolo ha avuto questo paese con tutte le sue caratteristiche, la sua territorialità per la sua vita? Sono le mie radici fondamentalmente perché è dove io sono nato, la mia famiglia vive, ha vissuto e continua a vivere e quindi la comunità cristiana e un po' anche quella civile è stato il luogo della mia infanzia, franciullezza. Poi all'inizio delle medie io sono entrato in seminario, ma direi che per tutto il tempo della preadolescenza e dell'adolescenza il legame con la parrocchia e la comunità cristiana è stato un legame che mi ha fortemente segnato. C'erano le amicizie, oltre a quelle scolastiche, quelle dei gruppi parrocchiali, in particolare l'azione cattolica, il rapporto con i sacerdoti, Don Innocente Cagnin che è stato il primo parroco che io ho conosciuto e poi Don Sebastiano Zordan e questi legami sono legami importanti per me e l'ho anche un po' riscoperto in questi giorni quando è diventata pubblica la mia nomina Vescovo di Vicenza per le tante persone che si sono fatte presenti, che fa anche piacere, ma sono più segno appunto di un rapporto di vita che si è instaurato fin dall'infanzia. La terra con i suoi valori, con i suoi ritmi, adesso c'è molta più attenzione al creato, Papa Francesco ci insegna a custodire il creato, lei ha una sensibilità in questo senso? Io provengo da una famiglia contadina e quindi il rapporto con la terra, gli animali, è un rapporto che è diciamo naturale per me, è anche segno di un lavoro faticoso, il rapporto con la terra, ma è anche per come mi ha assegnato la mia vita, un po' lo stile di una, diciamo di un modo di stare in serenità, in fondo i ritmi della natura sono anche più umani rispetto a volte ai ritmi un po' frenetici con cui ci costruiamo la vita in questo tempo e quindi trovare gli spazi un po' per il silenzio, per la contemplazione anche della natura. In questi giorni ci sono colori molto belli perché l'autunno si è un po' trascinato verso l'inverno e quindi vivo questa dimensione che è per me importante anche se la sensibilità rispetto alla natura è dovuta crescere perché quando ero piccolo comunque anche il mondo contadino utilizzava strumenti per provvedere alle piante e curare che oggi non si userebbero più, vorremmo superarli radicalmente e così un po' l'attenzione al mondo degli animali. Ecco, è cresciuta comunque questa attenzione anche nel nostro ambito familiare, contadino e credo che sia davvero una bella possibilità. I suoi genitori come le hanno trasmesso la fede? Che cosa vedeva in famiglia? La mia famiglia è una famiglia che è stata un luogo di crescita nella fede per la partecipazione della vita della comunità e anche per il modo con il quale percepivano l'esistenza e affrontavano i momenti anche più difficili. Il momento forse più impegnativo che i miei genitori hanno dovuto affrontare è stata la morte di un fratello. Lui aveva sei anni, io ne avevo cinque, a causa della leucemia e quando si perde un figlio così giovane è certamente una ferita che segna l'esistenza. Però loro hanno affrontato questo con grande fiducia nel Signore, dolore certamente, ma anche un atteggiamento di disponibilità che per me è stato un grande insegnamento, diciamo che mi ha plasmato il loro atteggiamento di fede ed era una cosa anche, una dimensione condivisa più ampiamente con i familiari sia di mia mamma che del papà perché sono due famiglie, due realtà familiari molto religiose. La mamma peraltro aveva una sorella suora e quindi c'era anche un po' questo atteggiamento. Un fratello di mio papà era stato in seminario da giovane e quindi sono dimensioni queste che poi accompagnano lungo la vita. Quindi una famiglia religiosa con principi sani e saldi, dei genitori generosi perché dopo aver perso un figlio hanno visto l'altro entrare in seminario. Mi hanno perso un altro? No, è un po' una perdita certo, ma anche questa l'hanno vissuta direi con grande disponibilità. Non mi hanno mai ostacolato da un lato e non mi hanno neanche mai forzato. C'è stato un momento nel periodo dell'adolescenza quando ero alle superiori in comunità giovanile in seminario in cui anche io sono entrato in crisi, non sapevo più se continuare, non continuare. Io avevo come l'idea che i miei genitori si aspettassero che io dovessi andare avanti per forza e invece quando ho presentato le mie fatiche a casa mi hanno detto tu sei libero di decidere, segui la strada che ritieni più opportuna e questo mi ha favorito nel prendere una scelta nuova nel continuare il cammino di discernimento vocazionale. Più libera. Più libera, sì, 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 e quindi in questo senso sono state una bella presenza. Lei è stato preside della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X a Venezia. Quanta importanza ha il diritto canonico? Che significato ha oggi per farlo capire anche a chi ci sta ascoltando adesso? Innanzitutto dico come sono stati gli inizi perché dopo un primo anno di vicario parrocchiale in una parrocchia il vescovo di allora, Monsignor Magnani, mi ha chiamato per mandarmi a Roma a studiare. Alla Gregoriana. Alla Gregoriana e non è che mi ha detto subito la disciplina che avrei dovuto fare. Io mi aspettavo di fare tipo catechetica, studi di questo genere, avendo fatto una sperimentazione con la CEI sul catechismo degli adolescenti e invece dopo un po' di tempo mi dice che mi manda a studiare diritto canonico e io sono un po' impegnativo, un po' interdetto perché non era proprio la disciplina che a quel tempo aspiravo di dover studiare. E tuttavia dopo i primi mesi di studio alla Gregoriana ho cominciato a comprendere che la disciplina del diritto canonico è una disciplina importante per la vita della Chiesa. Non tanto perché bisogna seguire delle regole, è importante certamente avere dei riferimenti di carattere normativo, ma perché attraverso le norme e la disciplina della Chiesa è possibile attuare la vita evangelica, la vita di carità e quindi evitare la confusione, evitare in qualche modo che ci siano delle forme di governo che sono arbitrarie e invece nella Chiesa avere la possibilità di seguire alcuni indirizzi che la normativa canonica esprime la ritengo una dimensione fondamentale. Noi facciamo un po' fatica in questo contesto a comprendere il valore delle norme perché nella percezione più diffusa le norme sono frutto di un artificio dell'uomo, sono artificiose, perché nel contesto moderno e postmoderno le norme sono frutto soltanto della volontà dell'autorità. Ma nella vita ecclesiale non è così o non dovrebbe essere così. Le norme canoniche sono frutto di una tradizione apostolica che ha le sue radici nel Nuovo Testamento e che trovano costantemente, come peraltro sta facendo Papa Francesco, un continuo rinnovamento per essere adeguate al contesto in cui l'annuncio del Vangelo deve essere rivolto. Si devono confrontare con l'attualità. Certo. E allora in questo senso si è comprese bene e quindi con lo spirito che anche Papa Giovanni Paolo II ha molto sottolineato promulgando il codice, quello attuale della Chiesa Latina e cioè che mettono in atto le riforme che il Concilio Vaticano II ha voluto per la Chiesa sono una buona risorsa. Ecco, certo vanno intese non tanto come una pratica positivistica delle leggi e quindi semplicemente con il loro valore esteriore ma per ciò che contengono nel loro spirito, nel loro contenuto. Lei è stato anche educatore e direttore del seminario. In questo suo ruolo quanto è importante proprio questo momento di formazione di coloro che saranno i futuri preti e che si troveranno a vivere, a operare in un contesto non facile. E la formazione è una dimensione importante per i futuri presbiteri e direi anche che sempre di più, come è emerso da Pastores da Bovobis in seguito, la formazione è una caratteristica della vita complessiva prima nel seminario e poi nel ministero presbiterale. C'è una continuità. Come lei diceva oggi la formazione è una grande sfida perché si tratta di prospettare a dei ragazzi o dei giovani la possibilità di rispondere a una chiamata del Signore per vivere un ministero, che è quello del presbitero, in un contesto ecclesiale di grande trasformazione, di grandi cambiamenti. E quindi anche l'identità del prete è alla ricerca di una sua maggiore definizione perché magari abbiamo, come dire, un bagaglio sufficientemente sicuro per quanto riguarda le realtà essenziali del ministero. Un sacerdote, un prete che presiede una comunità, che accompagna il popolo di Dio, che celebra l'Eucaristia, dona la riconciliazione, però le forme concrete, le forme pratiche attraverso le quali oggi il presbitero vive queste sue dimensioni fondamentali sono in forte cambiamento se pensiamo a come cambiano le comunità parrocchiali. Allora il rinnovamento, le riforme che sono necessarie investono anche la formazione. E da questo punto di vista credo sia davvero anche qui molto opportuno costantemente interrogarsi su quali sono i contenuti e le modalità per una formazione adeguata dei futuri presbiteri. E le risposte non sono sempre facili. Certamente la vita in comune è una grande risorsa. far fare nel contesto della vita ecclesiale, del seminario, un'esperienza di comunità autentica, a mio avviso è decisivo. D'altro canto è importante anche che ci sia un inserimento fin da subito nelle comunità, così come le vediamo oggi, come vivono oggi, anche per mantenere i legami con i ragazzi e i giovani delle comunità cristiane, perché uno che in qualche modo risponde al Signore in questa forma, cioè decidendo di fare un discernimento sulla propria vocazione entrando in una comunità del seminario, può interrogare anche altri sul percepire la vita più come una chiamata da parte di qualcuno, e questo è fondamentale. I preti oggi, oltre a una vocazione solida a cui rispondono di sì con la loro vita, hanno bisogno di una forte spiritualità e anche di una umanità solida. Il Papa ricorda spesso che il prete, ad esempio nel confessionale, deve proprio avere quella tenerezza nei confronti delle persone. Il prete non dovrebbe essere sgarbato, dovrebbe sorridere, accogliere le persone. C'è una formazione umana che va accanto alla formazione spirituale. Sì, la formazione umana e la formazione spirituale insieme a quella di carattere pastorale e pure quella, diciamo, intellettuale, teologica, sono realtà unitarie nel soggetto. E la vita spirituale interpella l'umanità e l'umanità ha bisogno di lasciarsi illuminare dall'incontro con il Signore Gesù. E quindi direi che è un circolo virtuoso nella misura in cui lo si vive in maniera unitaria e anche con l'utilizzo di tutti quegli strumenti che oggi abbiamo a disposizione perché insieme alla riflessione teologica noi disponiamo delle scienze umane. Ci sono anche queste di aiuto per capire la nostra umanità. Ma la sua domanda mi ha subito interpellato perché in questi giorni sto riflettendo anche leggendo i documenti del concilio, lumen gentium, presbiterorum ordinis. Uno dei compiti che il Magistero indica al Vescovo è quello di prendersi cura della vita spirituale e umana dei propri presbiteri insieme all'attenzione più complessiva del popolo di Dio. Ma la realtà del presbiterio in cui il Vescovo è fratello e padre nello stesso tempo è uno dei primi compiti e quindi l'attenzione all'umanità nei confronti di coloro che svolgono questo ministero, presbiteri e diaconi in contemporanea. L'avverto come un grande compito, un compito che sarà impegnativo per un clero che è piuttosto numeroso nella Diocese di Vicenza, più di quello di Treviso e che, come vedevo anche qui a Treviso, ha le sue esigenze perché ciascuno è una storia e quindi c'è la necessità di andare incontro a ciascuno, di avere attenzione e poi più complessivamente di camminare insieme, sia nella vita spirituale che in quella di un'umanità ricca di virtù. E a proposito di questa umanità ricca di virtù, lei ha accompagnato i seminaristi in Chad perché l'esperienza della missione apre lo sguardo a una dimensione più ampia. Quanto è importante questo? Per la mia vita personale e ministeriale è stato molto importante. È stato importante avere legami con persone, in particolar modo per me si è trattato di sacerdoti, ma non solo, anche persone consacrate, legami con realtà ecclesiali molto differenti e in contesti spesso di grande povertà. I primi legami sono nati quando ero all'Università La Gregoriana, ma poi sono molto più cresciuti quando in seminario appunto ho accompagnato i seminaristi da educatore, due volte a Manaus, in Brasile, dove avevamo una missione, e poi da rettore in Chad e da assistente delle cooperatrici pastorali anche in Paraguay, dove abbiamo pure lì una missione. E queste esperienze, quella in modo particolare che ho potuto vivere facendo un percorso tra il Camerun e il Chad, perché inizialmente la diocesi di Treviso aveva avviato un'esperienza in Camerun, nella diocesi di Ebolova, lì, dove abbiamo avuto anche un incidente di auto, che quindi ci ha fatto toccare con mano quali sono le condizioni reali delle persone che vivono lì. Questa mi ha segnato profondamente. E in serie a questa anche i legami che si sono instaurati con i sacerdoti, studenti, in facoltà, a Venezia, che provenivano da paesi stranieri, normalmente più poveri, perché il contributo della CEI è per studenti che provengono da paesi in difficoltà. I rapporti con tutte queste persone e le visite a quelle comunità allargano gli orizzonti e fanno vedere e percepire una Chiesa che da un lato a volte è molto più gioiosa, molto più carica di fiducia, aperta alla speranza, dall'altro lato in condizioni di grande povertà, di grandi necessità. Noi a volte non immaginiamo, vivendo soltanto qui, quali sono le esigenze di persone che vivono proprio di poche risorse e questo interpella una visione più complessiva che il credente e il discepolo di Gesù è chiamato ad avere perché mi ha fatto scoprire che Gesù aveva lo sguardo sempre sulla realtà a partire da chi viveva in queste condizioni di necessità, di povertà. Che dono le piacerebbe, o ha chiesto anzi, di avere proprio per la sua ordinazione episcopale? Ma come ho ricordato il giorno dell'annuncio della mia nomina a Vescovo di Vicenza, mi piacerebbe che in questa circostanza, invece di avere regali particolari, sapendo che normalmente ognuno di noi, anche in genere un Vescovo, insomma abbastanza il necessario, può utilizzare tutto ciò che è già presente nelle singole diocesi, il desiderio è che ci sia una raccolta di offerte per sostenere un'associazione che fa riferimento a Paul Batty, che è fratello di Shabbat Batty, che fu ucciso in Pakistan, ministro in Pakistan, era un cristiano fortemente impegnato nella vita sociale e che difendeva le minoranze con una grande umanità da un lato e anche con uno spirito profondamente cristiano, di fede. Questa associazione, essendo che il fratello vive qui a Treviso, sta promuovendo la costruzione di un ospedale per aiutare le mamme a partorire, in contesti in cui manca il necessario, e sostiene anche il dialogo tra le realtà sociali e religiose, soprattutto delle minoranze presenti in Pakistan. Ho chiesto questa attenzione, questa gentilezza, per chi lo desidera, qualcuno si è già fatto presente in questo modo, perché mi era già capitato, in occasione dell'ordinazione presbiterale, di sostenere una missione in Burundi, dove operava una suora della mia parrocchia di Mignagola, Sor Maria Vittoria Cenedese, ed è stato molto bello, perché costruisce dei legami, da un lato, e uno inizia il ministero con la sobrietà della vita, e quindi libero da magari tante o tentazioni o altre possibili derive. E mi piace, insomma, ecco, poter sostenere questa realtà. Ed è un dono che porterà tanti frutti, sicuramente. Ci auguriamo, ci auguriamo. I Vescovi hanno un motto episcopale, qual è il suo? Qui fa una domanda un po' impegnativa, perché io attualmente, avendo un po' indagato, mi sono accorto che non è più obbligatorio come in passato. È ancora da Paolo VI, che c'è la possibilità di non avere uno stemma, di non avere un motto. Normalmente i Vescovi lo scelgono. Io preferirei non averlo. E la ragione è questa. Lo stemma fondamentalmente è di provenienza aristocratica. Sono famiglie nobiliari che si portavano appresso un po' il titolo della famiglia. Ho l'impressione che in questo nostro tempo siano aspetti che potrebbero essere superati. A volte inducono a pensare a una chiesa ancora legata o a tradizioni nobiliari o aristocratiche. Mi pare che il Vescovo debba essere fratello tra i fratelli, pur con la dimensione della paternità, ma che non debba, ecco, in qualche modo seguire, diciamo, questa... e questo non vuole essere un giudizio nei confronti di chi ce l'ha, di chi ha fatto la scelta. Ho visto che il Cardinal Martini, leggendo un suo testo, dove spiega un po' le vicende che accompagnano la nomina di un Vescovo, lui stesso dice che non è obbligatorio, io l'ho scelto perché il motto mi serviva per dire un po' dello spirito con cui affrontavo io l'Episcopato, un po' il mio programma, ma preferirei non averlo. Monsignor Brugnotto, siamo in chiusura. Le chiedo in una battuta cosa chiede i fedeli di Vicenza per la sua ordinazione episcopale. Non chiedo se non una preghiera che mi accompagni in questo inizio di ministero come Vescovo e chiedo di poterci incontrare, al più presto poterci conoscere e condividere il cammino insieme. Allora, noi di Telepace le auguriamo con tutto il cuore un buon inizio di Episcopato accolto dalla Diocesi di Vicenza. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie del servizio che svolgete è estremamente importante per tante persone. Grazie Monsignor Brugnotto e a tutti voi che ci avete seguiti.